In un tegame mettere del vino rosso o bianco, una cipolla bianca tagliata a fettine, dell'olio di oliva e il sale grosso. Cuocere sempre a fuoco moderato. Far soffriggere il tutto per qualche minuto. Aggiungere un bicchiere di acqua e l'agnello tagliato a pezzi. Far rosolare il tutto. Aggiungere la foglia di alloro e dopo circa 10 minuti coprirli di acqua. Dopo circa 45 minuti aggiungere i piselli e l'acqua fino a coprire tutto. Cuocerli per altri 30 minuti. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e lasciate un like. Se provate a realizzarla condividete nella foto sui social con l'hashtag AntoRicette. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.